Sicuramente fanno sempre molto piacere. Certamente, ci immergiamo in un'altra atmosfera? Sì, ci immergiamo nella danza Paola, apriamo subito la nostra rubrica delle sfide e abbiamo Simone e Federica che è una coppia che ha portato Marcello Sindici che in questa occasione non voterà, idea, danza, te altro. Poi Marcello parleremo anche in un secondo di questo te altro perché è questa parola un po' differente dal solito. Li vedo già in posizione. Il codice 01, regia, musica. Eccola qua la frase! I am calling you Can't you hear me? I am calling you Oh, 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 oh complimenti a Simone e Federica veramente complimenti il loro codice è lo 0-1 e per televotarli è il 3-4-8-7-1-2-2-2-2 Marcello, teatro, perché questa frase questa parola? perché teatro è stato un semplice gioco di parole partito dalla parola teatro poi te insieme agli altri era un po' questo lo scopo in questa scuola cosa si fa? si fa danza, canto e recitazione quello che va di moda adesso ma che è anche la logica giusta per formare un artista diciamo a 360 gradi io ti faccio complimenti perché il passato era molto bello io voglio solo dire una cosa sono giovanissimi quei due ragazzi Simone ha 15 anni e Federica 16 quindi insomma ci tenevo a dire questa cosa sono molto giovane grazie Marcello